ciao a tutti ragazzi bentornati qui su questo video oggi come avete visto praticamente non è uscito il video quello che era stato chiesto perché ho pensato una cosa migliore allora mi era stato chiesto di fare il personaggino in legno steve ma ho iniziato a prepararmi il materiale poi mi è venuto in mente che voglio fare una roba migliore fatta meglio e quindi pensavo anche di farlo che si muovesse quindi le braccia che si muovono segue magari un percorso e tutte queste cose qui quindi sto lavorando sul codice che devo scrivere per utilizzando arduino praticamente con i motori servo andrò a farlo muovere e sto elaborando il codice quindi questo video verrà spostato ulteriormente perché prima faccio il codice poi appena ho tutto pronto poi in altro altra parte mi servono dei motori quindi ho dovuto ordinarli bisogna aspettare che arrivino e tutte queste storie qua quindi verrà rimandato altre cose anche la serie di minecraft per adesso un attimo interrotta perché sto andando avanti a costruire off camera che sto sistemando tutti i materiali intanto qua sto facendo aggiornamenti sul computer e quindi anche quella interrotta tra un po inizierò una nuova serie ma sto organizzando tutto adesso sono un po fermo perché mi sto organizzando è un casino non preparare le robe di natale tutte queste cose qua al lavoro è tutto un casino che c'è il cavo davanti quindi sono abbastanza fermo ultimamente però cercherò di portare comunque qualche contenuta altre cose che mi viene a cosa questo avviso tutte le cose va bene altre cose uscirà un video sicuramente su come creare con arduino un controller per delle luci natale che me lo farò ho visto dei progetti allora voglio provarci anch'io a riprodurli e sto aspettando anche lì tutto il materiale che c'è un sacco di materiali che deve arrivarmi e non posso fare niente quindi però comunque cercherò di portarvi qualcosa quindi i video in programma verranno slittati più avanti mi spiace per questo contrattempo ma ho deciso di fare le robe fatte bene e non buttateli quindi vedrete varrà la pena aspettare altre cose che volevo dirvi è sicuramente un progetto che ci entrerà con questa striscia qua un pezzo di striscia led rgb e andremo sicuramente a preparare tutta la roba per natale magari farò un video anche dove faremo proprio gli addobbi natalizi non lo so guardano intorno se c'è altre informazioni mi sembra di no c'è la videocamera un po' offuscata c'è un po' di nebbia fuori piove piove ve lo garantisco sta diluviando fuori quindi vediamo vi faccio vedere intanto vediamo se riesco vi faccio vedere non so se si vede che sta diluviando abbastanza non so ma sembra che si vede si vede poco si vede poco 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 poi vi faccio vedere che qui abbiamo i fiori sta fiorendo questo qui lo l'ho messa su sughero perché stava marcendo poi ho rimasato questa qui abbiamo questa qui che sta buttando fuori una radice nuova lì si vede un po' sfocato perché il telefono oggi non ha voglia di collaborare ho organizzato tutto il banchetto per l'inverno ma gli ci faremo un video a parte comunque vi faccio vedere una leggera panoramica questo è un buon sale mi era stato regalato se ha seccato completamente e guardate dopo averlo annegato di acqua e messo con tanta luce guardate che cosa ha tirato fuori io già dato una tagliata perché era troppo ma vi già vi spiego adesso dai cosa voglio fare praticamente come vedete a questa forma strana no io voglio andare col tempo ad utilizzare o questo questo era metto qua o questo qua sopra e basta il resto andrò a toglierlo adesso devo solo vedere un attimo come reagisce come cresce in modo da tenere solo questa prima parte di curva e basta solo questa qui oppure questa qua addirittura trasformarlo metterlo inclinato vi faccio vedere praticamente metterlo inclinato metterlo non so tipo così inclinato e fare tipo non so una cascata o qualcosa del genere cioè questo qua aspettate questo qua andrò a piegarlo verso il basso e andrò a fare tipo una semi cascata vedremo come reagirà dai vi ricordo per questo video è tutto vi ricordo commentare iscrivervi lasciare dei like e se avete delle idee o qualcosa lasciare i commenti sotto in descrizione io vi ricordo che i video continueranno non si fermeranno faranno Grazie a tutti.